Abbiamo finito di pulirci questi denti! Passetto, vanno al passetto, ma sempre ci denti! Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, io in menzina, nella marchi che piove, siamo fermi nel parcheggio del centro commerciale! Perché siamo venute qua, perché dobbiamo comprare un po' di cosine, un'ora di tempo, perché tra poco chiude e non so quante cose dobbiamo comprare! Devo comprare un vestitino, qualcosa che non lo ha da mettermi, poi mi devo comprare qualcosa per la palestra, un bel legge, poi vogliamo comprare qualcosina per la casa di Spitzus, ci serve anche una borraccia delle cose di vestiti, qualcosa, tante cose, ma sono già le otto praticamente, abbiamo due ore di tempo perché fortunatamente questo centro chiude alle dieci, quindi faremo tutto in fretta, un tour default! Tutte cose che vi faremo vedere, vi portiamo con noi perché vi è piaciuto tanto il vlog che abbiamo fatto, quello là del sushi, la sfida Sushi Challenge, dove Nancy ha perso! E cosa avevate detto voi che doveva fare Nancy? Avevate detto nei commenti? Sì, avevamo detto che erano buoni, che sono state proprio cattive queste ragazze, tutto è venito in sé cattivissimo, un uovo in testa, ma cose assurde! Il più bello è stato, Nancy... No, è più votato, diciamo, più mi piace! Più polliciato, lo mettiamo qua scritto insomma in pressione, Nancy deve indossare un tuo leggings, se l'ho parlato, e andare in giro ragazze! Ragazze, ve l'ho sempre detto, quello che voi dite è legge e si avvera sempre! Fa vedere! Non ha coraggio di uscire! Mi sono messo una maglia lunghissima nera per coprire sto scempio, una maglia nera, un giubbino nero, ma si vede comunque! Mi giuro ragazze, ve lo giuro con tutto il cuore, stavo a casa e lei mi ha detto, ti prego, c'è una maglia nera lunga, poi mi ha detto, ma nonna mia come sono male, non mi piace! Che schifo, mi guardavo nello specchio e facevo, che schifo, mi sembro, tipo la nonna Zia Assunta, ve l'ho detto, e la tata! Zia Assunta! Zia Assunta, quella, tipo quella, ma niente! Adesso ci fai ancora una sfilata qua dentro, ti riprendo, fai tutto l'outfit, dai andiamo! A proposito, poiché ora io ho fatto la penitenza e ho messo questo leggings e l'ho guardato, ora le ragazze dovranno dire cosa devi fare tu nel prossimo vlog insieme! Eh scusa, ho fatto il modo di fare tu! Non l'abbiamo prevista sta cosa! Eh, l'ho messo con una in diretta, non te lo dico! Cioè veramente, mi giuro ragazze, non mi ha detto nulla, all'improvviso quando stavo registrando, vabbè potrei anche tagliarlo stamattina! No, no, no! Quindi praticamente loro devono decidere... La tua penitenza, perché io la mia l'ho fatta! Devo fare io qualcosa di brutto, ti copo come tu, questi leggings e devo fare qualcosa! Non solo, vestiti anche l'uovo in testa, per dire io ti schiaccio l'uovo in testa, oppure non so, fermi persone per strada sconosciute e fai pinta che sei pazza, queste cose così, insomma! Cosa è più buone ragazze, ditemi che cosa devo fare nel prossimo video che faremo, ditemi cosa devo fare e il commento più un polliciato ovviamente quello sarà fatto, lo faremo, farò tutto! Siete clementi con me, ricordatevi che ho fatto una penitenza odiosissima per me! Quindi pure guarda che stai bene con sto leggings! No, 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 non ti ho assunta, non ti schifo! Già Renzi, dai andiamo, uscià, dai, yes, video on brand! Che schifo! Andiamo! Dai, modello leggings, ma ti devi alzare la paglia! Ma noi come guarda, ma è bellissimo sto leggings! E come si prova, cosa si prova ad essere, ad indossare questo leggings, ad essere calito dolce per un giorno? No, voglio dire la cosa, cioè, io ti sei fatta lo shampoo e oggi si è bagnato tutti i capelli sotto la piozza, cioè se è grande, se è unica! Sono bagnati! Quindi stasera dovrai fare tutto lo shampoo? No, me ne asciugo solo col foglio! Guarda come stai bene! Orrore! Ragazzi, ho trovato la piozza per l'italità! Guardate com'è brutta, è proprio per lei! Che shampoo piace neanche a me, però! Oh, è quasi al carpool! Comunque, vabbè, io ho tutti i capelli bagnati, perché praticamente oggi, no, tu sto proprio bagnati, come a dirotto, praticamente, e si gela! Ragazzi, è tornato l'inverno! È venuto l'inverno! È venuto l'inverno! Ragazzi, ora facciamo tipo come se esce la notizia, Lascio questo ombrello qua, perché mi scuccio di portarmelo appresso! Allora, poi dopo, praticamente, vi dirò, alla fine, quando ce ne siamo andati, se l'ombrello sta ancora là! Facciamo questo gioco o qualcuno se l'è rubato! Ho detto, facciamo, vediamo dopo se l'ombrello sta ancora qua! Ah, l'è rubato, vediamo! È una prova! È una prova! Adesso dobbiamo andare ad H&M, perché io voglio vedere appunto se trovo un vestitino! Adesso, dove vai? Vado nel bagno! A fare cosa? Che cosa è la borsa? La primi solamente faccia! Che cosa è la borsa? C'è un gizzo e la borsa! Ragazzi, portate i gizzi di cuore! Non ci credo! Ma che fai? Un gizzo! Perché mi deve togliere sta cosa un errore! Non avrà mai, un errore ne ho parlato! Basta ragazze, me lo devo togliere, mi spiaggia, la scoperta è stata fatta, ho fatto la penitenza, ora me lo tolgo! Ciao! Sta morendo, già fa più, si deve togliere lei! Non è poi, scappa! Da H&M MENSI! Questo con la delizia non mi piace, questo senza invece sì! Ma cosa cerchiamo? Un bel vestitino! Bellissimo! No, vabbè, questa è la tuta per te, Nancy! La tuta Leopardac! Trova la vestitina Da H&M Vediamo a Nancy che dice Oh, carino! Mi piace! Bellino, specialmente i calzini! Sì, dopo la faccetta! Non è bene, mi piace! Mi piace! Carino proprio! Ok, c'è anche nero, sì! Avanti il prossimo, dai, voglio vedere qui! E costa 24,90 a me! Ah, è buono come prezzo, dai! Non sta troppo a Jessica Rabbit! Effettivamente! E già un po'? Prova il nero, magari, o questo ovvio, dai! Ok! E c'è anche questo, guarda che carino Nancy! Eh, questo te l'ho preso io, Bordeaux! Oh, carino! Oh, Nancy! Sono arrivato! Ah, sei benissimo, sei una sex bomb! Nancy, un sex bomb! Sex bomb! Yo, sex! Sei benissima! Sei fantastica! E guarda io! Ah, che carino! Questo te lo l'ho toggetto io! Se vuoi fare, ce la puoi sentire, meraviglioso! Ah, carino! Piace! Stanno bene i colori! Piace come stai? C'è questa più dolce! Più semplice, ce l'ha! Carino! E' un po' più olore, grande a sé! Ma non lo posso dire, parino! Adesso sono io, scelta! Un po' no, anche a più due! Ok, vediamoli tutti! Mmm, Nancy! Ciao! Si scoperto! Non si può sfidare, non si può sfidare! Non si può sfidare! Non si può sfidare! Adesso ci facciano anche da cane, comunque c'è anche il nero! Stai, vediamo se lo specchio si... Nello specchio, guarda qui! Nero è così! Comunque... Se abbiamo le vede, ma che fai è un fraccio! Insomma, è così, come... Comunque è lo stesso vestito, abbiamo! No, a me di questo fatto qua non mi piace, tipo ti grava! In me c'è il merletto! Carino, dai! Non lo so, cosa dicci? Sono più vestitini carini! Il rosso purerà carino, davvero Nancy! Eeeh, fatti acquisti! Bravo! Shopping compulsivo! Shopping compulsivo, grande! E abbiamo finalmente trovato qualcosina, è vero? Qualcosina proprio! Poi facciamo il video, ti facciamo il video che faccio vedere tutto il nostro shopping che ha provato oggi compulsivo, ma non finisce qua, eh! Dobbiamo andare anche in tanti altri negozi! Ce la faremo! E lo faremo, yeeeh! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Siamo praticamente un pantalone della Nike! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! e siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Siamo chiusi nel cammino della Nike Assunta! Ragazze, vi è piaciuto questo video? Mi raccomando mettete un pollice su un pollice, ragazze, perché il video è iniziato con io che avevo questi leggings orridi leopardati, quindi ora lei, quantità dolce, dovrà fare una bruttissima penitenza e voi la deciderete nei commenti. Ho deciso la mia penitenza, dovrò indossare un leggings leopardato. Che penitenza è? Un uomo in testa ha già una bella penitenza, le ragazze saranno fattivissime. Va bene, anche cantare e ballare, sono molto brava, sto scherzando. Comunque ragazze, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video con la nensina, mettete un bel pollice in su, così se ne raggiungiamo tanti pollici in su, capiamo che vi piace. E faremo tanti vlog. E facciamo tanti vlog pazzi. E poi vi aspettiamo sempre su questo canale con il video degli acquisti che abbiamo comprato. Tante cose, eh? Non solo da H&M. Vi farò vedere tutto nel video, vi mandiamo tanti baci. Ciao! Ciao Nessi! Leopardata! Ormai sei Nessi Leopardata. No, non credo mai più. Ciao! Tata! C'è ancora l'ombrello! Hai visto? E poi dicono che a Napoli rubano. L'ombrello è brutto, è tipo l'ombrello. È così carino, con la tempesta che fa fuori, nessuno l'ha preso. Grande Napoli! Ami! Ami!